Tunaherz conquista il titolo continentale. Il corridore belga, a sorpresa, conquista la prova riservata agli uomini elite dei campionati europei di ciclocross 2016, con un'azione nata piuttosto lontana dal traguardo, quando bisognava affrontare ancora quattro tornate. Il duello maggiormente atteso si concretizza alle spalle del corridore della Telnet Fidea, con Matthieu van der Poel e Wout van Aert che concludono rispettivamente in seconda e terza posizione, regolando la volata nel gruppetto degli inseguitori. Grazie per la visione!